e se ne dice coordinato per favore e 180 418 ok quando allora dei pistoni riprendo ok ti vedo prendi tutto a me e ma ci sono i testi che mi guardano ma poi qualche c'è da bedrock qua potevano almeno smettere set home ma cavolo non ti vedo più chi a me? eh perchè io mi sono fatto un buco ah oddio è vero che non è di italiani sto server quindi ho detto girati uehh oh cazzo ehm dai se rompi cazzo basta mi hai spaventato non sapevo di tu sono stato di mezz'ora tu mi hai pure guardato non ho visto il tuo nome oh non ti ho visto scusa cosa significa non ho visto il tuo nome ma vedi che hai la mia skin cioè si esatto dai venite qua e dai venite qua poi ci uccidi ma non ti uccido più eh no adesso cosa hai fatto ma era un sbaglio non era uno sbaglio mi hai guardato per 5 minuti ma non è vero per dire 5 minuti cioè mi guardate per un po' di tempo comunque ho capito che l'hai detto per dire po' c'è la sponso io mi costruivo una casa la petto come con la petto guarda l'albergo ah cosa non sentite cosa avete detto niente sono not ho solo due steak oh mio dio due steak oh mio dio com'è che faccio prendere i conti si è una zombie brucia dai vieni ma anche la carne e come e come ma continuo di solito server no no quanti lupi 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 c'è qua c'è un villaggio proprio tutto fatto da si qua no ma stasera il clip lupi la telecofina poi cambiamo server ma perché no dai mi piace così lo stesso cccd ci crede che ti piace ma non decida più no ho preso mezzo stack di spawns perché fatto sta cazzata maria lupi 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 sì ma come siamo e questo qui che non è scoprire tassi vi consiglio di proiettare tanta legna e buttarmela giù perché mi sa che non sopravvivete se entrato in casa e allora come facciamo ad arrivarti e la tendete legna me la buttate giù io faccio delle scale e salgo ma perché dove sei oddio con qualcuno morto adesso ti foto tutto si si cosa c'era cosa c'era ho del cibo che bello armatura no un piccone in oro wow aveva aveva uno stack di angurie 40 mele 64 cosi di di carne di maiale 7 panini e due stack di spawns che allora vieni mario è un attimo però porta tanta legna e dove la trovo la legna aspetta ci sono c'è un bosco non più ma laga solo tipo un secondo se non è che se quando stasera tanto ogni due minuti salvo si ok dimmi le coordinate di archi 680 418 ho un'osso 2 fregge minchia 680 prova a fare slash spawn slash spawn slash spawn si si può fare no non si può si no oh si o no no non si può eh ma io ho detto oh si o no no perchè scusa hai scavato quel buco da z che che cos'è z eh di coordinata eh 488 ma che palle ok sono duecento dx e1 no e 20 di z c'è troppo 6 vicino e salvato le coordinate della città si si oh che parlo presuto proprio la strada giusta si 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 lo faccio il tizio comunque portati tanta legna c'è un tizio qua docito un tizio come però senza armatura e non so se ti conviene perchè se muore sei un cazzo si vieni prima cosa spero prendo un po' di stone questo piccone d'oro che è utile faccio una spada faccio una spada il mare no il stone e' uccido su tizio 10 euro ma perchè non venite l'ho ucciso o cacchio aveva anche lui della sponge mi sa che non altro il nostro punto mi sa che anche lui è uno degli altri mi sa che anche lui è uno degli altri mi sa che anche lui è uno degli altri here's fine ah, il fatto il gioco c'è uno e la ci sono dei lupi in mano ma io ho fatto tanto non va non posso aiuto eh perchè quella anche per essere abbracciati nils si ti butto tutto giù attento ma non va oh senti io ti butto tutto giù eh nils ok tu fai le scale ma perchè cos'è che hai fatto scusa non mi dire che è andato tutto sulla workbench eh 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 mi sa di si randai sei un genio l'unica workbench che c'è la becchi l'unica che? workbench cioè crafting table si si aspetta provo ad uccidere quel tizio tanto adesso non ha niente si tutto lì randai allagato io vado a potenziarmi da spada in lane e in stone perchè? perchè si intanto c'è un livello il livello il livello in questo villaggio qua c'è un coso lì l'ho visto però è quello di protetto non è che devi dire l'alta voce cosa? mio fratello cos'è che ha detto? sto dicendo roba dei numeri ad alta voce eh che figata cosa? oh mio dio questo cosa quello farò anch'io cosa? è un alberello tipo fai lo screen alan no fai lo screen mario che palle punizione 1 mi è venuto fuori no no ma tu fai utile si è abbastanza chi va ad uccidere adesso vabbè pulizione contro zombie e basta te pp alt Italia è che far cyclista ho visto qui ce l'ho ucciso si cosa che aveva evo. quassio un aspetto a una picche leccine del cibo e carbone ma venite eh ma sai come posso scendere secondo te con le scale le fatte mi son perso eh ma tutto dato le cose però paura che adesso ti puoi ritorni io non ho cibo ho due cuori ce l'ho il cibo no se manca uno no mi sto allontanando cazzo un dell'ailon ma so che che parla ma continua la gare sta arrivando o sono vedo il pregio io sono solo la casa in legno da tento un pizzo da uccidere hd shots da dove mi sto sul posto serba a 9 persone voi incontrate dappertutto gente ciao randall da dove sei ma so da in su pensi che muo' il suo salto giù ah ma questo paio lo spawn disegna vado mi puoi più uscire c'è un tizio adesso vado ucciderlo becchini o la via dio non cambia la portola ha chiuso in pratica è diventato tutto buio perchè non ho messo torci no po' torri corri finiranno vera il caldo lagam powder o grazie carino ma dov'è la fornace non muore sto qua o dove la fornace occhi di bambini non la vedi c'è un raggiunto raggiunto per da rientra con cecconi che andrà tu sei la passo di nicola non dirla non lo so allora non mi niente mi dispiace ti dovrai comprare minecraft no zack 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 l'armatura in oro c'è anche lui non c'è la sai mario si invece e' alzato stagli salire io sono qua fermo milagri c'è cos'hai fatto ci sono quattro persone amocci l'anno nata carica se la vita di